Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Oggi parliamo di queste cuffie da semi gaming, ma non solo, ma lo scoprirete dopo la sigla. Come vi stavo dicendo, oggi parleremo di queste cuffie che secondo me valgono la pena di essere acquistate. Stiamo parlando delle HyperX Cloud 2 e sono delle cuffie che potete trovare anche al di tutto dei 100€ e, a mio parere, sono le migliori sul mercato per questa fascia di prezzo. Ma andiamo a vederle meglio nello specifico. In particolare queste cuffie hanno la possibilità sia di essere collegate tramite jack da 3,5 mm sia da USB 2.0. Queste cuffie dispongono di un audio surround a 7.1 e, che dire, scattiamone insieme? Beh, le cuffie ce le ho già da due anni, però mi sembrava carino fare un unboxing con voi così, un po' carino, così vedete anche cosa trovate dentro la scatola quando le acquistate. Allora, le cuffie si trattano in questo modo qui. Allora, sulla scatola ci sono tutte quante le specifiche tecniche, in particolare, come ho detto prima, ha un audio surround a 7.1, è stato certificato da Discord, quindi potete usare comunque per il gaming, ed è compatibile sia con PC, sia con PlayStation, che Xbox, ma anche con mobile, perché no? Perché, come ricordo, queste cuffie sono date di un audio, di un jack a 3,5 mm. Sono delle cuffie, a mio parere, molto molto comode, specialmente anche quando mettete i patiglioni in pelle, perché sono questi patiglioni in pelle, e c'è appunto la possibilità di sostituirli con questi in materiale un po' più leggero, che fanno raspirare un po' più il suono, e quindi se passate un po' troppo forse il volume vi sentono anche, mentre con questi in pelle rimanete comunque più isolati. Permettere di togliere non è poi così facile, in quanto dovete proprio tirare la cuffia e incastrare il patiglioni, in quanto ha questo piccolo, questa piccola parte, non so se la vedete bene, che va proprio incastrata in mezzo alla cuffia. Magari dopo vi faccio vedere. Questo è il cavo direttamente attaccato alla cuffia, con il jack da 3,5 mm, e qui le cuffie si possono regolare in altezza, in larghezza, quanto volete, sono adatte anche per test davvero molto più grandi della mia, io basta che l'appoggio così, le regolo un attimo e mi stanno su perfettamente. Mi stanno su perfettamente anche se mi muovo, quindi rimangono anche molto salde, ma senza stringervi troppo la testa, perché comunque dovete fare una sessione di gaming di 3-4 ore, queste non vi daranno fastidio. Ci sono cuffie invece che se non vi frevano qua, cuffie che vi frevano in punti specifici, queste ve le circondano totalmente le orecchie, quindi non vi danno assolutamente alcun fastidio, e per lo più i patiglioni sono molto morbidi, quindi ha assolutamente nessun tipo di fastidio. Come vi stavo dicendo, questo invece è il cavo per connettere al computer tramite USB, e attivare l'audio surround 7.1, c'è questa comoda spiletta che potete accapiccicare, se magari funzionasse, questa comoda spiletta che potete accapiccicare, e poi il cavo va al computer direttamente, e la potete collegare attraverso il jack delle cuffie, in questo esatto modo. Se poi vi serve anche il microfono, perché appunto per videogiocare, per giocare, vi serve il microfono, voi prendete il microfono, qui c'è un piccolo buchino che, ecco, mi sono scaccata, e lo inserite dentro fino a che non fa clicca, e ecco a voi le vostre belle cuffie da gaming, dovrei scioglierle ma non la voglia. E qui avete questo microfono regolabile, che al momento dell'occorrenza prendete, staccate e non vi date più. Quindi sono delle cuffie che potete usare anche con il vostro smartphone, in quanto se non volete il microfono lo staccate, se non volete l'audio surround lo staccare anche questo. Per quanto riguarda la qualità audio di queste cuffie, allora, sono cuffie davvero di altissima qualità, allora, sono cuffie davvero di alta qualità, non sono, beh, ovviamente come quelle cuffie da 600, 700, anche 1000€, ma comunque sono delle cuffie da 80€ in sconto su Amazon, allora, in questo momento queste cuffie sono al prezzo moderato di 65€, quindi davvero un prezzo davvero, davvero molto basso, come detto prima, da pagare 80€ e il loro prezzo di destino è di 100€, mentre in questo momento esiste anche una versione wireless, se potete taccare il compito in modo wireless, ma non sono sicuro che sia abituto, quindi, e che costa 150€ più o meno in questo momento, ma io l'ho presa appunto con il cavo, perché appunto mi servivano con il cavo per giocare, sia la Playstation, sia per montare i video qui con il Mac, sia per ascoltare comunque sullo smartphone, anche se gli ultimi smartphone non hanno il jack delle cuffie, mi sono un po' adattato, ho comprato la torino senza appunto comprare quelle wireless, quindi spendere comunque decine di soldi in più. Le cuffie sono di ottima fattura, abbiamo questi padiglioni qui in questa parte in metallo, questa parte qui è in plastica, questo materiale qui invece è appunto pelle, e anche c'è un materiale che è pelle anche qui sopra, quindi rivestito con queste ricamature rosse, che a mio parere sono davvero molto molto belle. Gli archetti sono in totale metallo, quindi davvero molto robusti, danno anche un bel feedback al tatto, che dire, l'esperienza di gioco con queste cuffie è davvero formidabile, riesco a trasferire proprio tutti quanti i suoni che ci sono appunto di fronte a voi, dietro, o in qualsiasi parte, voi riuscite sempre a capire dove proprio viene quel suono, e quindi per i giochi specialmente dove, ad esempio Fortnite, Call of Duty, questi qui, giochi di ruolo, riuscite comunque a videogiocare in modo molto molto immersivo. Che dire, anche la connessione con appunto con i smartphone è molto semplice, basta con il appunto il giacca delle cuffie, se avete il giacca delle cuffie sul telefono, altrimenti dovete connettere, devo comprare un atto a torino con il vostro telefono, per il vostro telefono. Sono cuffie, come ho detto prima, che io uso per montare, quindi ottimi anche da questo punto di vista. Il microfono, sì, è buono, ma potrebbe essere meglio, ma comunque il cuffie sotto i 100€, questo ormai non ci fanno manco più caso, in quanto un microfono buono, di alta qualità, va a costare sui 100€, quindi a questo prezzo vi portate a casa anche un microfono, che se dovete parlare con i vostri amici, va molto bene, se dovete registrare un video con quel microfono lì, assolutamente no, ha fatto addirittura un podcast, è meglio quello del vostro iPhone o comunque il telefono. Allora ragazzi, io ora le ho montate, come potete vedere, qui si sono accesi questi LED, qui posso disattivare o attivare modalità 7.1, sono collegato dentro il Mac con l'USB sotto in quel dock lì, e le cuffie appunto sono qua. Allora, le cuffie stanno comunque molto bene, come ho detto, ad orecchie, ma ora proviamo neanche dal punto di vista sonoro. Allora, le ho con esse, sono già riposendo musica, come potete sentire. Allora, tenterò di farvi ascoltare qualcosina con questo telefono, del microfono di questo telefono. Credo possa abbastare, altrimenti mi bloccano il canale per copyright. Allora, questo è un test con il microfono delle cuffie, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Invece, questo è il test del microfono con quello di iPhone, e così potete sentire un po' anche la differenza. Beh, che altro dire su queste meravigliose cuffie? Io di certo non devo dirvi nient'altro, perché abbiamo parlato di tutti quanti gli aspetti che queste cuffie possono ricoprire, dall'aspetto sia per lo svago, quindi con il telefono, sia per il gaming, sia per montare i video, davvero tantissime tantissime cose. Se siete dei neofiti che ancora non volete spendere comunque tantissimi soldi per delle cuffie, queste sono davvero fantastiche, al mio parere. Quindi, che altro dire? Se vi sono piaciute, fatelo sapere nei commenti, e anche se le acquisterete, perché comunque sono curioso se le acquisterete, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, qui su YouTube, a voi non costa nulla, ma a me fate un grandissimo favore. Solo l'1,7% di voi, o comunque circa il 2% di voi è iscritto al canale, mentre il 1,798% non è iscritto, cosa aspettate? Cosa aspetti di iscriverti? Cosa aspetti? Mi vuoi forse far fallire? No, no, ti prego, ok? Quindi, io sono qui a raccontarti in questo video, quindi per favore, ricambi con un like, e iscriviti al canale, e mi raccomando, aspetto che lo faccia, che tu lo faccia, ok? Ciao ragazzi, al prossimo video! Ciao! Grazie a tutti.